Aumentare la conoscenza e la presenza del prodotto Pera nei mercati esteri per favorirne il consumo e ottenere prezzi soddisfacenti per i produttori. Sono questi i principali obiettivi che l'organismo interprofessionale Pera intende raggiungere attraverso Futur Pera. Il salone che per la sua seconda edizione a Ferrara Fiere dal 16 al 18 novembre scommetterà sulla internazionalizzazione del prodotto verso mercati ricchi pronti ad accogliere la Pera italiana di qualità. La recente campagna di commercializzazione della Pera è stata caratterizzata da un buon ritmo di vendita per tutte le varietà, la BAT in primis ma anche Kaiser Conference e Decana. L'inizio della commercializzazione quella relativa alle Pera estive è stato moderatamente positivo con delle quotazioni sostanzialmente in linea con quelle dell'anno scorso nonostante una produzione un po' più alta di quella dell'anno scorso per le varietà estive quindi possiamo dire perché la commercializzazione è già terminata che i risultati in termini di produzione lorda vendibile per ettaro per i nostri soci relativamente alle varietà estive probabilmente saranno un po' meglio di quelli dell'anno scorso. Per le varietà ottunali e invernali invece ovviamente è troppo presto, siamo appena all'inizio però come ho detto prima si riesce a intravedere ad oggi una situazione di mercato che lascia spazio a un moderato ottimismo. C'è una stagione intera e la BAT è la regina delle pere e riteniamo che sia strategicamente importante coltivarla anche perché siamo i primi produttori al mondo e direi gli unici produttori racchiusa in zone particolari delle province di Ferrara, Modena, Bologna, Ravenna diciamo così, la Romagna senza avere concorrenza nel mondo per cui riteniamo che ci siano delle ottime possibilità per riuscire a risollevare questo prodotto che negli ultimi anni ha subito dei decrementi di produzione e di consumo.